buonasera benvenuti a questa nuova diretta del centro studi Machiavelli vi ringrazio per essere collegati e ringraziamento particolare amici di altre pagine la pagina innanzitutto dell'onorevole guilamo picchi che anche qui con noi fra poco presenteremo la pagina di progetto prometo e quella di ritorno al reale con cui abbiamo creato questa partnership che ci permette appunto di eh trasmettere vicendevolmente le le dirette che facciamo eh ci siamo lasciati martedì sera eh sera dell'election day commentando eh con vari ospiti tra cui sempre l'onorevole guilamo picchi eh quel che sembrava la direzione che avrebbe preso il voto americano e diciamo che lì abbiamo eh messo in luce che non ci fidavamo troppo della versione mandata avanti dai giornalisti dai sondaggisti secondo cui ci si aspettava la valanga la vittoria valanga di Joe Biden eh diciamo che almeno su questo siamo stati buoni profeti perché effettivamente chi ha seguito eh lo spoglio in diretta di quella notte sa bene che a un certo punto aveva preso una piega eh del tutto inaspettata eh almeno da chi aveva seguito questi questi sondaggi queste narrazioni giornalistiche e a un certo punto si sembrava paventare addirittura la riconferma di Donald Trump siamo appunto nel cuore della notte eh ora americana tra il tre e quattro novembre con Donald Trump che ha un buon margine di vantaggio con spoglio già piuttosto avanzato in vari eh stati decisivi Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia e ehm molto più di quello che avrebbe bisogno per raggiungere i duecentosettanta voti elettorali e in quel momento che eh escono a distanza di circa un'ora prima Joe Biden a dire state tranquilli perché comunque riusciremo a vincere e Trump a eh rivendicare comunque in ogni caso questo grande successo inaspettato a dire che ritiene di aver vinto ma a mettere in guardia da possibili irregolarità visto che in quella fase si è già bloccato in sostanza assistiamo al blocco degli spogli in questi stati poi magari cercheremo di approfondire cosa è successo fatto sta che quando riprende la storia è cambiata radicalmente incominciano a esserci eh un netto sbilanciamento di voti che affluiscono a favore di Biden e praticamente in tutti questi stati abbiamo visto il eh ribaltamento di fronte eccetto la North Carolina dove tiene con il novantaquattro per cento dello spoglio e tiene ancora un certo margine Trump però eh ecco in tutti gli altri stati abbiamo visto il sorpasso di Biden che dovrebbe anche a breve tra l'altro proclamarsi vincitore eh visto che il spoglio non è concluso ma però ha preso la testa in un numero piuttosto ampio di di stati quindi eh questo rapido rovesciamento di di fronte che in parte ci si poteva aspettare perché sappiamo che c'era il problema del voto postale c'era la possibilità che ci ci fossero shift nei voti però sicuramente in modo in cui è avvenuto alcune mh vicende dettagli che del resto adesso andremo a illustrare hanno lasciato un po' di 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 sospetti nella parte repubblicana e sappiamo che c'è la volontà da parte del presidente Trump anche di sfidare in sede giudiziaria questo risultato intanto do il benvenuto ai nostri tre ospiti abbiamo l'onorevole Guilamo Picchi che gli amici di Machiavelli conoscono molto bene deputato della Lega Commissione Affari Esteri già sottosegretario di Affari Esteri nel passato governo Lorenzo Montanari che è rappresentante di Americans eh for for tax reform che è questa organizzazione che si batte appunto per la sostanza la riduzione delle tasse negli Stati Uniti e Alessandra Bocchi che invece lavora giornalista lavora per la sezione eh opinioni del Wall Street Journal è importante sottolineare la sezione opinioni perché per chi frequenta quel giornale perché sa che c'è una certa differenza rispetto appunto alla alla redazione normale eh vedo che ci sono già molte persone collegate quindi possiamo eh diciamo interrompere questa mia ampia eh introduzione e entrare un attimo eh nel dibattito con i nostri ospiti ricordando intanto a tutti quelli che ci seguono ovviamente se vogliono eh lasciare le loro opinioni fare domande scrivete pure saremo ben lieti di leggerle in diretta e di commentare e rispondere innanzitutto vorrei chiedere a Lorenzo Montanari ehm alla luce di spoglio non ultimato però mi pare di capire che alla luce di quello che vediamo non c'è più una via diciamo così elettorale per Trump ma soltanto la via giudiziaria per riuscire ad arrivare alla casa bianca ma eh sì anche se vorrei essere ottimista fino alla fine e quindi sperare in un cambio di risultato ma però stando alla realtà sì in effetti mi pare che la la via elettorale sia chiusa e però dato eh vedremo se eh gli appelli eh la via giudiziaria prevarrà eh però sicuramente c'è un dato che è interessante cioè eh eh tutti eh ci hanno spiegato per mesi che ci sarebbe stata una blue wave eh mi pare invece che sia stata una blue bubble cioè questa ondata eh democratica non ha poi conquistato l'America come i giornali i mainstream media e i sondaggisti ci hanno eh voluto eh ci hanno spiegato per per mesi quindi già questo ritengo comunque eh un successo eh di Trump eh bisogna vedere adesso a questo punto cosa succederà al Senato a questo punto il Senato diventa fondamentale, cruciale perché con con un'eventuale vittoria del Senato eh dei repubblicani Biden praticamente eh si avvia eh in un gridlock di due anni quindi cioè non non vedremo in un inaltamento delle tasse o per la meno della corporate tax dal 21 al 28 per cento come gli aveva promesso non dovremmo vedere eh un'ondata di regulation eh come eh il ticket Biden Paris eh aveva promesso in campagna e non dovremmo vedere un allargamento della eh Corte Suprema eh per ribilanciarla eh verso eh diciamo un orientamento più liberale quindi se partendo da un presupposto che i repubblicani possano vincere il Senato diciamo che Biden eh potrebbe diventare un secondo carter in termini di fallimento di policy però siamo ancora in una fase in cui i dati sono divenire anche se ormai la partita è chiusa però direi che questo potrebbe essere un primo primo commento eh sui risultati elettorali sulla situazione che è abbastanza insomma eh indecitabile sì giustamente citavi il Senato perché appunto in quel ribaltamento di fronte che stavo descrivendo c'è stato anche questo cioè che fino a ieri sembrava comunque la maggioranza dei repubblicani del Senato dovesse reggere senza grossi problemi ed ora invece eh viene messo in dubbio anche questo eh un'eventuale maggioranza democratica al Senato avrebbe delle ripercussioni molto forti perché tu citavi questo eh progetto paventato e mai smentito da Biden di aggiungere un numero arbitrario di membri della Corte Suprema per prendere sostanzialmente il controllo da parte dei democratici c'è anche un altro progetto che i democratici continuano da tempo quello di aggiungere elevare a stati federali delle realtà che non lo sono come Washington DC come Porto Rico chissà magari anche l'isola Vergine o Samoa in futuro che vorrebbe dire riuscire anche a eh scardinare quel vantaggio che hanno i i repubblicani in Senato per il modo in cui viene eletto e in sostanza arrivare a prendere il controllo di tutti i centri di potere e in qualche modo questo però vorrebbe dire andare contro quel sistema di di check and balances che che ha sempre caratterizzato gli Stati Uniti potrebbe anche essere questo un fattore che convince i repubblicani anche quelle su un po' tiepidi a seguire Trump sulla strada di una contestazione del verdetto elettorale se il Senato dovesse finire a ai democratici? Direi di sì nonostante eh che io sappia non c'è stato una un appoggio forte da parte del del partito repubblicano eh nelle contestazioni di Trump se non in alcuni individui eh mi pare McCarty e Graham ehm però il Senato comunque rimane un un punto forte eh dei quattro anni di Trump perché bisogna ricordare che anche durante le midterm election Trump è stato l'unico presidente dal 94 eh ad oggi eh che è riuscito a mantenere il Senato dopo due anni di presidenza tutti da Clinton Obama Bush hanno perso sia il Senato che la Camera quindi il Senato continua a tenere e speriamo perché sennò sarebbe una eh in termini eh normativi eh di eh di riforma dell'età sarebbe una un fallimento perché vedremmo in questo caso il eh Biden avrebbe avrebbe mano libera su eh eventuali riforme però ehm pare secondo me se guardiamo anche i dati della Giorgia i e nei due eranoffe eh i candidati repubblicani dovrebbero vincere cioè considerando il 1.2 per cento che ha il candidato se ricordo bene di libertarians e quel 20 per cento di eh del secondo candidato repubblicano con quindi non ci dovrebbero essere problemi eh nelle run off in Georgia eh però eh vediamo ero estremamente ottimista prima eh del nove del tre di novembre perché speravo nella tenuta dell'Arizona ma credo che la famiglia McCain abbia giocato un ruolo determinante nella 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 perte diciamo di una di una parte del corpo elettorale tradizionalmente repubblicano. Ecco vorrei introdurre adesso eh Alessandra Bocchi che come dicevo è una giornalista perché eh è avvenuto questo fatto nelle ultime ore che è stato un po' di sensazione anche qui per noi che osserviamo in Italia cioè la conferenza stampa di Trump in cui ha ribadito la sua visione che ci sarebbero dei dei broglie che vuole contestare la situazione dei cinque grandi network televisivo americani ce ne sono stati tre che hanno tagliato la 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 diretta di questa conferenza stampa dicendo che eh non potevano trasmetterla perché eh Trump stava affermando delle cose false. Abbiamo avuto la CNN che l'ha trasmessa effettivamente assieme a Fox eh salvo poi dalla parola Anderson Cooper che va ricordato nel 2016 fu anche un moderatore dei di un dibattito presidenziale che ha definito eh Trump tra le altre cose patetico e tartaruga obesa. Adesso so che è un po' antipatico chiedere un giudizio sui colleghi però eh io eh che ho ormai già qualche cappello grigio mi ricordo che una volta la normalità per il giornalista era far sentire le dichiarazioni di un uomo importante come il Presidente degli Stati Uniti e poi eventualmente eh contestarle, correggerle. Questa idea invece di eh censurare quello che dice un personaggio così importante eh non è dal tuo punto di vista sbagliato e non è in fondo anche una mancazza di rispetto e considerazione verso i propri ascoltatori no? Come se vengono visti come dei bambini che non sono in grado di di ascoltare una versione alternativa senza poi giudicare eh da soli senza essere influenzati? Sì assolutamente è una cosa che non è mai successa prima e dimostra come Silicon Valley sia in realtà eh molto di parte e i moderatori dei contenuti eh di queste si chiamano big tech companies cioè queste compagnie di social media sono eh la stragrande maggioranza sono progressisti e sono di molto di parte ma non è una sorpresa è successo la censura sta andando avanti da tanti anni e però la cosa che sorprende è se loro censurano certi contenuti perché eh per motivi di che sono fatti no sbagliati cioè non si tratta neanche di odio semplicemente eh sono si stanno comportando da cosiddetti fact checkers no? eh stanno facendo il lavoro che dovrebbero fare le redazioni che dovrebbero fare i giornali che non sta ai social media a fare che dovrebbero essere piattaforme neutre e che sotto un titolo una legge che è quella 230 se la cercate la potete trovare negli Stati Uniti loro avrebbero immunità dall'essere eh processati per i loro contenuti giusto perché sono piattaforme neutre quindi chiunque può scrivere quello che vuole e loro non sono responsabili dei contenuti che vengono pubblicate sulle loro piattaforme però se si comportano in questo modo cioè da editori e da editorialisti al posto di essere eh piattaforme invece neutre allora sono responsabili di tutti i contenuti a quel punto quindi era già da tempo che Trump voleva revocare questa legge e cambiarla e togliere la loro immunità eh in modo tale da eh in certo senso spaventarli e da farli comportare eh come piattaforme e e poi ci sono delle regole cioè eh è giusto forse non avere certi linguaggi non incitare all'odio però sono applicate in maniera molto di parte e in questo caso non si tratta neanche di odio eh o di linguaggio non accettabile ma semplicemente di fatti con la quale loro non sono d'accordo cioè che questa che c'è stata froda elettorale in questo caso. Sì ehm opportunamente hai messo nel nel discorso la questione dei social ehm dei social perché eh vorrei anche ricordarlo tra l'altro il Wall Street Journal proprio la sezione dell'opinione assieme al New York Post è stata una delle due testate che ha ehm rivelato al pubblico eh statunitense mondiale la questione calda anche prelettorale quella del famoso computer di di Hunter Biden e anche in quel caso c'è stata una censura aperta da parte soprattutto di Twitter oltre che di di Facebook. Da come la vedo io mi sembra che l'idea che eh questi social network che hanno se non un monopolio quantomeno un oligopolio su l'accesso all'informazione in internet unito anche a Google che secondo delle ricerche fatte da 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 Breibart ma anche da eh Real Clear Politics avrebbe da inizio del 2020 retrocesso nei nei propri risultati di ricerca quei siti più legati alla destra io lo vedo poco compatibile con quel pluralismo e con l'accesso alle informazioni che dovrebbe caratterizzare che è fondamentale per le democrazioni o sbaglio? Sì eh esattamente quello che hai detto tu cioè non e poi non c'è modo di controllare come stanno applicando queste queste regole cioè nessuno controlla i moderatori no? E e in più sono si difendono dicendo noi siamo una compagnia privata possiamo fare quello che vogliamo possiamo avere i contenuti che scegliamo noi di avere però non è esattamente così perché loro hanno degli speciali privilegi che li sono stati dati appunto da questa legge che ho menzionato e e quindi se hanno quei privilegi devono avere anche i doveri di applicare le regole eh ugualmente per tutti. Eh Guglielmo Picchi a proposito di fact checking e social network tu hai scritto mi pare proprio oggi o ieri comunque un intervento sui 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 social dove eh esplicitavi quelli che sono eh in sostanza elementi che ad oggi il team Trump e i suoi sostenitori hanno eh tirato in ballo per denunciare appunto i i brogli. È successa questa cosa simpatica che Facebook ti ha messo sotto eh il label informazione falsa rimandando tra l'altro a un sito di fact checking georgiano di cui obiettivamente anche per la differenza di 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 alfabeto penso che la maggior parte dei tuoi lettori se non tutti non non è nemmeno in grado di capire chi abbia ragione tra te e quel sito di fact checking poi con tutto il rispetto per la Georgia non sapevo che eh ci fossero dei giornalisti così importanti da poter censurare anche gli ex membri di governo italiano. Ma sì eh diciamo pure che eh tutta la vicenda eh indipendentemente da come finisce elettoralmente insomma se 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 il nuovo presidente dovesse essere Biden come pare insomma lunga vita Biden e diciamo come partito politico come individuo come ex membro di governo sarò lieto di di collaborare con la nuova amministrazione americana. Eh detto questo siamo oltre il surreale dico la verità perché la ricostruzione dei fatti che che hai fatto te mi ha portato proprio il il quattro sera appena sono tornato dalla dopo la nottata elettorale dal confronto che ho fatto con tanti giornalisti mentre ero a Roma con tanti colleghi a mettere in fila quelle che mi sembravano io non le voglio chiamare frodi perché non ho gli elementi però quelle che sono anomalie statistiche che eh chi ha fatto tante campagne elettorali come me ne ha osservate tante ho avuto il privilegio anche di osservare tre elezioni presidenziali americane in precedenza quindi due di Obama e quella eh di Trump e quindi conosco i meccanismi le procedure eh sono stato credo di essere uno dei pochi di tutti quelli che hanno commentato che è stato fisicamente presente ai seggi a vedere come eh avveniva il il voto anticipato come avviene lo spoglio come vengono consegnate eh eh le schede eh tutto il problema del anche delle leggi di un eventuale riconteggio e ho messo in fila quelle che sono secondo me anomalie e eh la cosa divertente è che sia un sito italiano eh è andato a fare il fact check citandomi come il bignami delle falsità eh di Trump in Italia eh il mio posto un posto che ha avuto un po' di successo perché ha raggiunto oltre 250.000 persone quindi ha avuto un sacco di condivisioni di commenti e di interazioni anche da parte di e infine è giunta la eh simpatica label di disseminatore di false notizie con questo check di questo sito georgiano che eh pur essendo io uno insomma che conosce social che sa girare insomma io non è che sono riuscito più di tanto a verificare che cosa avessero eh identificato di falso in realtà niente di quello che è contenuto nell'articolo ma una delle foto eh allegate all'articolo è stata eh dichiarata a false news. In realtà eh andando a vedere quello che che è successo il caso specifico è che eh se non mi sbaglio in in Michigan appare una in un aggiornamento dei voti eh anziché eh aumentare i voti di Biden di 13.000 aumentano di 138.000 e questo viene colto da uno screenshot di un di un utente di Twitter la quale la pubblica viene sollevata un'ampia discussione e eh naturalmente questo diventa virale e viene diffusa dappertutto. Proprio l'attenzione che hm sostenitori di Trump o chiunque fossero insomma eh internauti che eh monitoravano questa cosa hanno portato a un'investigazione rapida e effettivamente la eh contea il clerk county che aveva inserito questi dati ha ammesso che si trattava di un typo e che avevano sbagliato eh anziché 13.800 voti ne avevano messi 138.000. I voti vengono rettificati sul sito del del della segreteria di Stato dove c'era il reporting e quindi poi eh vengono anche eh sistemati su Twitter quindi vengono poi diffusi. La cosa grave qual è stata? Eh non tanto che Twitter o gli altri hanno detto bravo a quello che aveva eh individuato diciamo il typo a essere diciamo carini chiamiamo typo perché insomma eh io normalmente queste cose quando succedono in Italia si chiama fraude elettorale però facciamo finta di essere tutti in buona fede eh e ha censurato preventivamente questa cosa qua cioè eh ha bloccato Twitter la possibilità di eh diffondere questa cosa però è diventata talmente virale che ha portato nonostante la 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 censura preventiva di una cosa vera eh a eh a questa correzione dopo la correzione naturalmente chi diffonde l'informazione falsa deve essere censurato il problema è che solo grazie alla diffusione e al controllo che abbiamo fatto noi il l'errore è stato è stato contato e eh dicevo del questo sito italiano che ha fatto fact checking tutto quello che ho scritto delle anomalie che ho rilevato io le ho chiamate ho voluto usare la parola intoppo perché la parola intoppo semplicemente perché non ho elementi non essendoli sul campo per verificare che effettivamente ci sia qualcosa di strano eh mi pare strano che l'ho detto anche insomma in un'intervista oggi al Libero eh strutture organizzate dove si sa che c'è un massiccio a flusso di voti postali all'improvviso interrompano il conteggio perché è necessario far riposare gli scrutatori ora normalmente che cosa si fa se ci si organizza su due tre quattro turni shift no eh h24 in modo tale che dopo che hanno lavorato sei ore sono stanchi prendiamoli mandiamo via entra il turno dopo si continua il conteggio essendo un conteggio decisivo e quindi ho messo in fila tutte queste queste anomalie come nel corso della notte ci sia stato poi sia in michigan che in Wisconsin quelle due barrette verticali nel nella curva del dove si è chiuso un gap enorme eh e con due aggiornamenti piuttosto strani eh dove eh Biden aveva avuto eh decine di migliaia di voti e Trump zero eh ci sono spiegazioni sicuramente che però non sono state fornite ma il voto sicuramente è stato interrotto e questo non lo può negare nessuno anzi è dichiarato da sul sul fatto che ci sia stato in questi movimenti io chiamo anomali anche quello eh c'è il disegnino quindi non è mai stato smentito e ancora tutto lì online si può vedere eh l'accusa che mi prende sicuramente che ho dichiarato male eh gli sharp gli sharp markers in in Arizona eh avendo confuso che fossero degli sharp object non eh dei marker che avevano dell'inchiostro e ah quindi effettivamente ho sbagliato però la sostanza rimane vera perché eh quelle eh le macchine di lettura di quelle eh di quei ballots non riuscivano a leggere quindi effettivamente si rischiava che fossero annullati e tutto questo è avvenuto in contee largamente repubblicani e anche questo non si è stato eh smentito e qui ci sono tanti elementi che portano a dire che insomma forse eh i media non hanno fatto proprio bene a eh censurare Trump quando è andato in conferenza stampa perché eh della sostanza è andato lì per dire nella sua opinione eh sulla base delle evidenze che il suo team ha raccolto che sicuramente farà valere se le ha in mano a me se non concesso io questo non lo posso sapere ehm che le farà valere in in sede legale eh è andato a dire che per queste motivazioni lui ha intenzionato andare avanti nella in una battaglia legale che ricordo per eh stati come la Georgia o come il il Wisconsin eh se il margine è entro determinati a punti percentuali eh quindi eh in alcuni stati è lo 0,5 lo 0,25 il distacco eh non c'è nemmeno bisogno che uno dei due chieda riconteggio il riconteggio è automatico di default è nuova legislazione che fu introdotto dopo Gore Bush del del 2000 per cui in automatico se è entro 0,25 per esempio nel Wisconsin credo 0,5 in Georgia eh ci sarà un riconteggio automatico per fare riconteggio ci sono minimo eh tredici giorni secondo le legislazioni statali per cui di fatto Trump è andato a annunciare quello che la macchina organizzativa e le leggi statali già in in vigore procederanno a fare nelle nelle prossime ore quindi il giorno dopo che fosse dichiarato il eh rifiutato in Georgia o in Wisconsin dove sono parte la macchina del del riconteggio e questo è previsto questo per dire ma a parte a parte il riconteggio verosimilmente cosa può ottenere per via giudiziario a Trump cioè poniamo che arriva fino alla Corte Suprema cosa può sperare di ottenere? Allora io non credo che otterrà nulla sono sono molto credo che la sostanza del voto poi alla fine debba essere evidente però ci sono queste due eh procedure che che saranno attivate in automatico e una che è già iniziata in che è già pending in in Pennsylvania eh perché eh la Corte Suprema nella sostanza è già stata investita del caso se debba applicarsi o meno per ragioni di covid nella sostanza eh per intero o per niente la nuova legge elettorale della della Pennsylvania che prevede che i voti elettorali debbano eh i voti postali debbano essere pervenuti e quindi certificati entro la data delle delle elezioni eh ho appreso da fonti della campagna di Trump però eh dico la verità è solo una fonte sua quindi non sono in grado di eh avere riscontri esterni che si tratti di oltre duecentocinquantamila schede che eh quindi non non rientrerebbero nel criterio che la campagna di Trump identifica cosiddetti legal votes eh che sarebbero stati contati lo stesso eh e l'unico rischio vero eh che 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 corre Trump è che questi voti non siano stati in qualche modo segregati e siano identificabili eh e la cosa che a me lascia molto perplesso avendo fatto eh i monitoraggi elettorali dalla Russia in Ucraina in eh in Canada nel Regno Unito quindi in tante parti del mondo le elezioni devono essere sempre free and fair e soprattutto ci deve essere la trasparenza mi meraviglia molto che il partito democratico che ha criticato in tutto il mondo le elezioni con i suoi osservatori da da dalle elezioni in Biero Russia a quelle in eh in Russia poi quando eh viene chiesto di introdurre Paul Watchers del partito repubblicano all'interno del del centro di di conteggio a Filadelfia ma anche da da altre parti questo sia stato eh non consentito e anzi quando è arrivata il court order per far sì che potessero entrare che potessero osservare i i voti eh hanno fatto appello per impedire l'osservazione se non c'è niente da nascondere a casa mia in Italia io faccio vedere tutto a tutti nella massima trasparenza quindi diciamo Biden vincerà la la strada legale di Trump è una strada automatica è già iniziata perché la Corte Suprema ha già investita del fatto che deve legiferare su queste segregated ballots in in Pennsylvania eh ci sono due riconteggi che 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 ripartiranno sicuramente per per Georgia eh statistica per la Pennsylvania se il limite dovesse essere eh non ho visto gli ultimi numeri ma insomma se dovesse essere entro lo 05 e per il Wisconsin a pagamento però questo quindi lo dovrebbe pagare la campagna di Trump eh io dico una cosa se su Twitter è stato eh spotted un errore di centotrenta centotrentotto mila voti e quindi di uno 0 in più beh magari qualche altro solerte eh o distratto eh county clerk che da una contea strana anziché riportare 7.900 ha scritto 9.700 capite bene uno stato dove c'è mille voti come la Georgia può cambiare assolutamente tutto. E tra l'altro è successo poche ore fa in Michigan dove è stato ribaltato un verdetto favorevole un democratico perché si è scoperto che c'è stato proprio uno sbaglio nel riportare i dati e quindi eh è stato eletto il il deputato repubblicano. A proposito di quello che dicevi tra l'altro dei dei democratici e del modo in cui si stanno rapportando a queste elezioni poi non andrebbe mai dimenticato che per quattro anni i democratici hanno avanzato la teoria del complotto cioè dei russi che avrebbero in maniera decisiva eh spinto all'elezione di Donald Trump e adesso dal mio punto di vista è un po' ipocrita ecco scandalizzarsi troppo se Trump avanza una sua contestazione all'elezione di Biden. Aggiungerei anche una questione eh molto brevemente sui voti via posta. Queste sono state delle elezioni caratterizzate da eh voto via posta indubbiamente più di qualsiasi altra lezione lo sappiamo c'è stato un caso specifico che è avvenuto quest'anno la pandemia eccetera però il voto via posta dal mio punto di vista dovrebbe sempre essere l'eccezione e non rischiare di diventare la regola come questa perché il voto via posta perde due dei caratteri essenziali del voto. Primo non è totalmente anonimo perché se la la diciamo il plico elettorale viene accompagnato dal nome eh dalla firma della persona che che ha votato non c'è la certezza che rimanga effettivamente anonimo e secondo la possibilità di farlo nel segreto dell'urna. Nel segreto dell'urna nessuno ti vede a parte Dio come diceva il famoso slogan dei dei della DC. Quando tu lo fai a casa anche Stalin sempre per prendere quello slogan ti può vedere eventualmente cioè ci possono essere delle pressioni quindi mi sorprende molto che nessuno stia mettendo in luce questo fatto cioè che il voto via posta è estremamente vulnerabile a forzature a a broglie e così via però eh ci ho detto adesso una domanda Daniele allora come sai io nella nella precedente questa legislatura sono stato eletto finalmente in Italia ma in precedenza sono stato eletto nella circoscrizione estero dove il voto è al cento per cento postale eh l'unico suggerimento che 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 avrei dato a alla campagna di di Trump eh insomma gli potevo dire magari andatevi a chiamare eh qualcuno che degli italiani in Argentina che hanno fatto il voto postale in questi anni così vi insegna quali sono non affrodare ma quali sono i trucchi che vengono messi in campo per diciamo espandere il proprio bacino elettorale e quindi avrebbero potuto mettere in campo delle contromisure di controlli che sono anche relativamente semplici e fare eh dei pezzi di legislazione che potessero controllare questo è il grave errore di Trump quando ha avuto il controllo di entrambi i rami del del Parlamento non ha eh voglio dire regolamentato quello che si sapeva sarebbe stato eh l'unico modo per permettere a a qualcuno di eh non dico di frodare le lezioni di steed election però diciamo di eh rendere molto ampia la partecipazione del voto diciamo con maniera molto estensiva e quindi coinvolgere anche persone che eh noi l'abbiamo visto perché insomma eh raccoglitori eh negli Stati Uniti li chiamano harvesters no? Eh noi avevamo i raccoglitori di sacchi di juta che passavano da interi condomini dalla Germania o in in Argentina questi sacchi di juta raccoglievano le schede elettorali del eh delle persone che non sapevano nemmeno che cosa che cosa fossero e decine di migliaia di ignari cittadini si trovavano ad aver votato senza nemmeno sapere come quindi non è nulla di nuovo era qualcosa che sapevamo noi in Italia lo vediamo dal dal 2006 eh mi meraviglia che eh insomma uno Stato organizzato serio come come gli Stati Uniti non abbia fatto niente per prevenire questo tipo di frode. Un'altra questione che vorrei sottoporre a tutti e tre magari partiamo da da Lorenzo eh adesso si dibatte quale sarà il futuro del trumpismo del partito repubblicano cioè il partito repubblicano rimarrà trampiano o meno sappiamo che Trump non è che sia mai stato proprio amato da dai vertici del suo partito è stato poi tollerato perché comunque ha vinto ehm e quindi molti pensano che ci sia anche un po' una voglia di disfarse d'altro canto però Trump non dimentichiamo perderà queste elezioni ma ha preso è il candidato repubblicano che ha preso più voti nella nella storia stiamo viaggiando verso i 70 milioni di di voti quindi batterà anche l'Obama del 2008 che vinse non a valanga ma quasi contro McCain e dato importante Biden eh fa meglio di lui ma con una eh quota di voti via posta molto più ampia adesso lasciamo da parte tutta la questione dei possibili brogli eccetera il voto via posta sicuramente è legittimo quanto gli altri voti però chi come Trump ha detto andate di persona fatevi la coda ai seggi dimostra che se è arrivata a 70 milioni ha avuto una capacità di mobilitare eh metà del paese assolutamente enorme ecco quindi a direi poi di tutte le questioni ma di questo ne lascio parlare a voi di come si è riuscito in buona parte anche a eh ridisegnare la base la piattaforma elettorale del partito repubblicano in una fase in cui il cambiamento demografico e sociale negli Stati Uniti sembrava minarne le possibilità a lungo termine di 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 essere competitivo per il potere cosa ne pensi Lorenzo? Ma sicuramente il mio punto di vista il trumpismo con questo risultato elettorale al di là che lui vinca la casa bianca e lasciamo per aperto il discorso del senato il trumpismo non è stato sconfitto al di là che eh Trump tra quattro anni si si voglia ricandidare o no e potrebbe anche farlo considerando eh il personaggio e eh dico che non è finito non è stato sconfitto perché il il trumpismo è riuscito a ehm rilanciare eh a portare mettiamola così il partito repubblicano eh anche in quelle aree della cosiddetta nel duemilasiedici del ras belt eh quindi a farsi votare dalla classe operaia americana. Questo secondo me è un dato positivo eh che comunque porta ad una riflessione soprattutto repubblicano eh poi il trumpismo significa anche in parte protezionismo quindi si allontana dalle approcci tradizionali liberali eh di libero mercato del partito repubblicano eh però secondo me visto con questo risultato elettorale il trumpismo non è sconfitto il trumpismo è è diventato un fenomeno eh quasi post politico eh o post partitico eh considerando il fatto che il partito repubblicano torna a vincere con lui dopo otto anni di Obama e se ci se ci ricordiamo nel duemila e otto eh io ero appena mi ero appena trasferito in America e nel duemila e otto il partito repubblicano di fronte al sconfitto di Obama era un partito che era sconvolto era pezzi praticamente usciva dagli anni di Bush ma senza eh incolpare nessuno senza incolpare Bush di per sé eh ma diciamo che era un partito che doveva ricostruire in sé eh immagine eh ripensarsi in termini di politiche e di eh immagine quindi il trumpismo da un lato rilancia e e porta il partito repubblicano in aree tradizionali democratiche quindi riesce a sfondare dei muri ora è vero il trumpismo è un fenomeno sui generis che va al di là se vogliamo eh eh declinarlo dal dal tipiche divisioni destra e sinistra quindi repubblicani e e democratici tanto che se ci ricordiamo nelle primarie i repubblicani cercarono in tutti i modi di sconfiggere il trump candidato però lui riuscì a creare una una comunicazione talmente diretta e eh e partecipata eh da sconfiggere eh candidati governatori come eh eh lo stesso o Joe Bush eh che hanno avevano dei record economici interessanti ecco il trumpismo è tutto questo quindi è qualcosa è un fenomeno che secondo me può rimanere eh anche al di là che Trump si ricandidi eh o no nel eh tra quattro anni il 2024 eh il trumpismo è anche la riforma delle tasse eh fatta fondamentalmente eh grazie a Paul Ryan eh ma è eh diciamo eh il presidente che dopo Reagan ha ha fatto la più grande riforma delle tasse in America anche in 40 anni cioè con un taglio radicale dal 35 al 21 per cento senza considerare i vari sette scaglioni di cui ultimo dal 39 al 37 ed è anche l'uomo che ha ha fatto una rivoluzione in termini di sistema di tassazione cioè ovvero ha portato il sistema americano da essere un sistema di tassazione globale a territoriale e queste sono state le due grosse eh rivoluzioni in termini economici perché perché da questa questa questo cambio radicale non solo sulla corporate tax ma anche da globale a territoriale ha fatto sì che più di tre punto eh tre mili eh triliardi trilioni di dollari almeno due terzi di questi eh eh di questa liquidità che era depositata in Europa rientrasse in America diventando ossigeno per l'economia americana eh con esultati che conosciamo tutti quindi con dei picchi di crescita fino a 4.1 per cento se ricordo bene nel secondo semestre del 2018 ma che poi eh ha permesso eh già dopo pochi anni dopo pochi mesi di riapertura eh dal lockdown di recuperare eh da aprile ad oggi 12 milioni di posti di lavoro e oggi stesso il dato è interessante quasi 638 eh mila posti di lavoro sono stati sono hanno sono entrati di nuovo nel mercato del lavoro e con sempre a considerare che eh la crescita del PIL eh nel terzo semestre eh il risultato del più del 31 per cento quindi portando di nuovo l'America a essere eh a recuperare economicamente rispetto ai paesi europei di cui la cui economia eh è tuttora soggetta ad alta tassazione e a tante eh a tante alle cosiddette ehm regulation nei vari settori economici quindi questo è il trumpismo anche questo è un po' l'eredità eh che lascia eh Trump in questo senso non è finito il trumpismo e la votazione comunque l'America è un paese diviso a metà eh Trump riesce a tenere eh in tanti stati ma riesce ad allargare anche sul piano etnico e demografico questo è un dato positivo cioè eh se guardiamo anche eh se leggiamo i dati eh per quanto riguarda gli afroamericani la base è aumentata dall'otto per cento di appoggio nel 2016 oggi si parla tra un 12 13 14 per cento sia tra gli uomini e le donne è aumentato la il bacino elettorale eh tra i latinos tra gli asiatici quindi questo per dire cioè ci hanno raccontato in ultimo anno che Trump anzi in ultimi quattro anni da sempre che Trump era l'attista l'ultimo anno con Black Lives Matter che era l'uomo che aveva diviso l'America beh però è l'uomo che invece alla fine quattro anni dopo eh è riuscito ad aumentare la base elettorale in termini etnici ma è riuscito a grattere di nuovo alla riforma delle tasse cioè bisogna ricordare un dato eh per la prima volta in 50 anni la comunità afroamericana ha raggiunto un tasso di disoccupazione del 5.1 per cento eh la comunità latina del 3.9 per cento e le donne del 3.1 per cento questi sono dati fondamentali e questi e questi dati si sono tradotti in un appoggio quattro anni dopo ad un candidato che ci è stato venduto come il candidato divisivo razzista eh il candidato che non a cui non ha mai interessato la classe media e invece i dati eh basti solo pensare alla alla al sondaggio di Gallup dove si è chiesto se eh agli americani stavano meglio oggi rispetto a quattro anni e quattro anni fa e la risposta è sì quindi questo è il trumpismo secondo me che rimane al di là del partito repubblicano che sicuramente non è eh non ha mai avuto una simpatia diciamo o un amore eh per Trump ma che comunque ha imparato a conviverci e in parte in parte non è stato in parte anche trumpizzato se pensiamo a governatori come De Santis della Florida quindi resiste al di là di cosa accadrà tra quattro anni eh resiste se eh il senato rimane in mano ai repubblicani perché appunto trasformerà il mandato di Biden che sarà di quattro anni e basta non vedo un Biden di otto anni ma con la possibilità che tra due anni i repubblicani eh riescono a riprendersi anche la camera visto anche che la performance elettorale di quest'anno del 2020 non è per niente negativa rispetto ai pronostici quindi eh trumpismo anche trumpismo senza Trump. La questione del voto ispanico che citavi ce la ricordava anche Mario Vattani nei commenti dove faceva riferimento soprattutto a Florida ma sappiamo che non è solo lì la tua suggestione di un Trump candidato fra quattro anni è vero avrà 78 anni ma che poi l'età che c'ha Biden adesso quindi non è così improbabile. Però adesso giro la stessa domanda da Alessandra Bocchi. Assolutamente quello che ha detto Lorenzo sulla base elettorale che è cambiata molto di Trump e che si è allargata con le minoranze etniche è verissimo e dimostra come una narrativa che appunto Trump è razzista e che è stato votato perché eh c'è un ritorno di nazionalismo bianco queste teorie non era vero secondo gli elettori almeno secondo queste minoranze etniche che hanno votato per Trump però è anche vero che lui ha perso anche un voto chiave che è quello che lo ha aiutato a vincere nel eh nel duemila e sedici che è quello degli uomini bianchi specialmente nel Rust Belt eh che è sceso dal sessantadue per cento quattro anni fa al cinquantotto per cento e eh penso che in parte abbia perso questo voto perché alla fine non abbia ehm sì i dati economici parlano da sé però per queste persone che si sono trovate queste zone ex industriali che si sono trovate eh economicamente devastate non ha fatto abbastanza per riuscire a riprendere il loro voto perché loro tra l'altro il Rust Belt gli stati in quella parte lì del paese eh in passato avevano votato quasi sempre democratico almeno negli ultimi cinquant'anni prima di Trump e e Trump aveva mh cambiato questa cosa in maniera eh molto strana per i democratici no perché il partito democratico è sempre stato il partito dei lavoratori finché non è arrivato Trump e e adesso il partito dei lavoratori rimane comunque repubblicano perché si vede dai sondaggi di delle donazioni che le donazioni primarie verso il partito repubblicano vengono da le classi operaie mentre le donazioni per eh il partito democratico vengono da eh le classi più eh alte ehm però nonostante questo ha perso un voto cruciale che lo avrebbe aiutato sicuramente a vincere eh anche nel 2020 eh sì tra l'altro leggevo poi sono sempre dati che vengono da exit poll quindi non sono certi a al cento per cento però leggevo che anche in alcuni sindacati che hanno formalmente appoggiato Biden in realtà la maggior parte degli iscritti ha votato per Trump quindi il segno che c'è anche lì questa differenza tra il la dirigenza e poi le le persone che effettivamente ne fanno parte e Stefano ci chiedeva se a livello giuridico se pensiamo che Trump possa avere le possibilità rivalendosi alla Corte Suprema in parte ha già ha già risposto Guillermo prima non so se vorrà aggiungere qualcosa altrimenti rigiro la stessa domanda che ho fatta Lorenzo Alessandra aggiungendo anche ovviamente visto che lui è politico qui in Italia eh c'è questa dichiarazione di Letta che dice la sconfitta di Trump è la fine del sovranismo anche qui in Europa effettivamente è la fine anche per questa nuova destra europea? Non lo possiamo sapere comunque quello che succede in America è vero che ha sempre delle ripercussioni prima in Europa e poi nel resto del mondo scambierà le cose anche in Europa cioè non ha più lo stesso momentum che aveva prima il sovranismo il populismo ehm non sappiamo ancora come cioè comunque le elezioni in Europa sono europee sono diverse eh però non ha più il supporto americano che aveva prima detto questo cioè tutte le amministrazioni americane lavorano con i con chi viene eletto in Europa indipendentemente da dal loro orientamento politico quindi non penso ci siano conseguenze così dirette meno il fatto che è chiaro che il sovranismo non ha più il successo che aveva una volta e che forse in certi sensi dovrebbe guardare a dove ha fallito Guglielmo dove dove avete fallito? scusa devi accendere il microfono Guglielmo questo è il primo fallimento sull'accensione del microfono ecco vedi mi sono fatto prendere dai fallimenti e quindi no questo ci insegna una cosa che ehm io ricordo a tutti che ho la 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 fortuna sfortuna di eh eh aver militato sempre nel dalla parte sbagliata almeno secondo i canoni dei liberals e dei eh dei benpensanti del dell'establishment del deep state eh io sono stato con insomma con Silvio Berlusconi dal 1993 eh le la rivoluzione liberale il partito liberale di massa eh Berlusconi è stato Trump vent'anni prima di Trump eh adesso eh noi siamo stati i primi a scommettere su su quello che vedevamo che avevamo osservato cioè sulla possibilità di di vittoria di Trump eh Salvini è sicuramente eh uno che è eh non amato dall'establishment che va da contro contro corrente la lezione che abbiamo da vent'anni a questa parte da da io ce l'ho da 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 Berlusconi ad oggi e che ho sempre cercato di far capire devo dire ahimè non con troppo successo è che eh l'uomo sovranista di destra chiamatelo come come vi pare insomma quello brutto e cattivo l'uomo politico eh o donna politica che sia ma sempre di questa parte politica deve essere oltre la perfezione eh noi dobbiamo se un democratico parla cinque lingue un conservatore ne deve parlare sette perché non saranno mai sufficienti parlarne solo cinque se abbiamo un MBA bisogna averne due e fare il dottorato di ricerca se abbiamo tre lavori bisogna farne quattro dobbiamo semplicemente imparare a essere perfetti e a fare una cosa che difficilmente la destra ha sempre fatto cioè quando è al governo esercitare il potere che ha nelle proprie mani eh con gli stessi eh esercitarlo come fa la sinistra sinistra lo 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 esercita senza senza problemi di opinione pubblica o di qualsiasi tipo di eh pressione esterna questa è la lezione che che ci rimane però siamo forti di del fatto che eh se uno brutto cattivo squallido e tutti gli aggettivi che sono stati utilizzati per il presidente Trump è riuscito a aumentare il proprio bottino elettorale di quasi quindici milioni di voti in questi quattro anni e a migliorare come non mai il benessere di delle due minoranze sempre dimenticati negli Stati Uniti che erano gli afroamericani eh e Latinos ci dice che in fondo la nostra ricetta economica è quella è quella giusta per cui eh il mio consiglio ai sovranisti europei a me stesso e a Salvini è che eh probabilmente non dobbiamo fare l'errore di eh voglio dire fidarci solo delle famiglie o dei cerchi più o meno magici eh e le corti ma metterci nelle mani di quelli che sono conservatori seri e competenti eh capaci eh e noi ne abbiamo assolutamente tanti se vogliamo anche prestati dalla dalla società civile che inseriti in un in un progetto strutturale di lungo periodo e non estemporaneo eh beh possono mettere in grandissima difficoltà la sinistra quando noi ingaggiamo parlo per l'Europa la sinistra sui fatti eh beh la realtà vince sempre sulla narrazione che loro hanno del loro mondo ideale nonostante la sconfitta poi alla fine se si va a vedere stiamo parlando di qualche migliaio di voti in in Georgia ventimila in Wisconsin eh qualche altro migliaio in Pennsylvania quindi sì onore a Biden perché eh se uno piglia anche un voto di più in democrazia ha diritto di di governare ma direi che il sovranismo mi dispiace per per Letta che stia pure sereno insomma gliel'hanno già detto altre volte eh noi ci siamo e siamo competitivi eh e credo ma veramente lo dico senza si tratta di fare un salto di qualità a destra non che non abbiamo qualità ma dobbiamo essere migliori eh usiamo facciamo siamo i miglioristi come come era la linea del partito comunista negli anni cinquanta no i miglioristi napolitano che andava a Washington a scoprire dell'America eh un commento lo voglio fare eh su eh quanto è stato detto Trump nel nel discorso censurato ha detto una verità eh al di là dei brogli e tutte le cose eh lui nel 2016 ha dato voce a eh persone che non avevano più rappresentanza politica e eh ieri ha riconfermato questo noi siamo il il partito dei dei lavoratori il partito degli ultimi partiti di quelli che sono esclusi della società e che possiamo rinserire in piccolo è anche permettetemi di dire anche quello che è la lega e la destra in in Italia eh dove eh diciamo i grandi potentati eh stanno stanno a sinistra eh i grandi capitani d'industria tutti a sinistra gli operai eh stanno tutti con con la lega perché è un fatto che il globalismo ha portato grosse disuguaglianze e eh chi si è fatto carico di difendere queste disuguaglianze forse nei modi sbagliati come approccio come linguaggio questo posso anche concederlo eh però tuttavia è stata la destra e non e non la sinistra per cui quello che ci lascia queste elezioni è in realtà tanti voti e tanta correttezza di ricetta economica eh meno burocrazia meno regolamentazione a tutti i livelli meno lacci per l'economia e meno tasse se noi si fa questo questa operazione e aggiungo e qui mi faccio l'autopromozione eh l'unica forza politica che in Italia ha affrontato in modo strutturato il problema della sovranità produttiva cioè per riportare in Italia le produzioni strategiche le filieri produttive eh strategiche per il nostro export e per il nostro paese è stata la Lega e Trump questo lo ha fatto lo ha fatto in modi forse un po' un po' un po' un po' cortodosso un po' da bullo politicamente da dealmaker come come lui da business però nella sostanza c'è riuscito e molti progetti di reindustrializzazione sono sono avvenuti e noi questo vogliamo fare anche in Italia ma indubbiamente comunque il punto citato da Alessandra quello sulla necessità di un po' di autocritica è corretto nel senso che comunque se non se sei stato al potere non ci sei più è inevitabile qualche domanda te la devi porre non perché il potere sia il fine della politica ma perché è lo strumento necessario per raggiungere il fine della politica se non sta al potere non cambi il mondo così come come vorresti e lui tu ne hai citato alcuni casi Guglielmo qui c'è anche uno dei nostri ascoltatori che giustamente pone l'accento sulla questione della eh egemonia culturale che dal mio punto di vista ha comunque pesato tanto anche in queste elezioni perché sempre ritornando non vuole essere un'ossessione ma ritornando a quel voto via posta anche sgombrando il campo da eh qualsiasi ipotesi di brogli rimane il fatto che il voto via posta è comunque un voto che sicuramente spinge anche quell'elettore che magari non è così attento alla politica non ha così tanta normalmente non avrebbe così tanta interesse voglia e convinzione da mettersi in coda ai seggi per votare nel momento in cui deve solo compilare imbucare eh una scheda lo fa magari quello che non si interessa alla politica si basa su sensazioni molto vaghe che può essere quello che ha detto il cantante quello che ha detto i i vip di hollywood quello che ha letto sulla rivista patinata lì se il clima generale comunque è che se non guardi fox o o altre eh televisioni simili alla fine tutti ti dicono badio nel buone trump è cattivo ci può anche essere veramente lì un leverage fondamentale cioè tra le persone poco consapevoli della politica ma che eh alla fine hanno messo il voto da quello che avevano orecchiato essere il il migliore noi ormai siamo in chiusura federico ci dice che ormai si sta instaurando una forma di non totalitarismo sono purtroppo d'accordo e Matteo non vedevo l'ora di ascoltare la vostra analisi grazie per fortuna ci siete voi eh sì per fortuna siamo anche noi felici di potervi eh dare queste queste dirette queste informazioni ehm ecco se non so se qualcuno dei nostri ospiti vuole aggiungere qualcosa altrimenti penso che possiamo anche salutare e congedarci ma se posso dire forse l'unico tallino d'Achille del trumpismo di Trump è che non è eh stato il frutto di una rivoluzione politico-culturale cioè come è successo con Ronald Reagan con la National Review degli anni Sessanta ed è sfociato con la vittoria di Ronald Reagan stessa cosa il conservatorismo compassionevole che in parte ha aiutato la vittoria di George W. Bush ecco questo forse è il dato negativo su cui bisogna riflettere e costruire una rivoluzione politico-culturale e mi rifaccio anche alla nota alla domanda ehm del nostro amico è questo il punto eh dare un volto eh politico-culturale a quello che è il liberal conservatorismo declinato in sovranismo e in tante altre facettature ma ripensare anche a a ad un approccio nel centro-destra molto più fusionista come Ronald Reagan eh ci ha insegnato ed è tuttora secondo me un insegnamento utile e valido perché dobbiamo eh eh riunire le varie porte del centro-destra liberali conservatorici eh di centro come poi è il partito repubblicano come poi anche in parte eh ha contribuito Trump ad aggiungere anche una parte diciamo eh più eh popolare però questo che manca che è mancato al trumpismo è diciamo una essere il frutto anche di una rivoluzione politico-culturale questo mi sento di aggiungere. Perfetto grazie mille Lorenzo Adriana ci dice che le è piaciuto molto il dibattito ne siamo felici altri altri ci fanno i complimenti ottimo siamo abbiamo superato l'ora che avevamo promesso quindi io ringrazio prego prego assolutamente sì. Fammi aggiungere questo visto che sei il presidente del centro studi Machiavelli e sapendo che sono quattro anni che ci siamo imbarcati in questa avventura del del centro studi per rispondere a Lorenzo beh è proprio quello che stiamo cercando di fare nel nostro piccolo e nel nostro con tutti i nostri limiti è di promuovere il dibattito nel nel centro destra per dare quel eh contorno assolutamente necessario a una destra conservatrice eh italiana che finora è sempre stata sfaccettata è stata rappresentata in tanti modi ma ancora non è diventata quello che tutti noi vorremmo sia il grande partito conservatore inglese o il grande partito repubblicano che c'è eh negli Stati Uniti per cui siamo siamo qui per per cercare di fare quello per cui grazie a a chi eh come Lorenzo come Alessandra partecipano a questi a questi eventi perché eh insomma noi con tanti sacrifici cerchiamo di 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 fare proprio quello che non vogliamo diventi il tallone di Achille di una vittoria del centro destra nel 2023. E tra le cose che fa Machiavelli ci sono anche alcuni libri tra cui questo che ricordo Trump contro tutti che è uscito prima delle elezioni ma penso sia ancora utile per capire anche mh come cambierà l'America con la presidenza Biden non posso elogiarlo perché sono un coautore magari se vuole elogiarlo Guglielmo io lascio fare. Compratelo è meraviglioso. Perfetto grazie. Allora di nuovo ringraziamento Lorenzo, Alessandra, Guglielmo per averci dedicato il loro tempo ai tanti che si sono collegati ovviamente a Progetto Prometeo e Ritorno Reale che hanno anche loro trasmesso questa diretta e a presto. Grazie a voi.